L'obiettivo della campagna di comunicazione voluta dal Comune di Torino e dalla Polizia Municipale che partirà nei prossimi giorni, forte di 50.000 pieghevoli, 3.000 volantini e 800 manifesti. Con lo slogan Non fare lo struzzo, l'iniziativa si propone di mettere in guardia i consumatori da tutti i rischi connessi a un fenomeno che, secondo le stime, vale quasi 7 miliardi di euro in Italia e sottrae oltre 100.000 posti di lavoro all'economia regolare. I settori più colpiti sono quelli dell'abbigliamento e degli accessori, il comparto di CD, DVD e software e quello dei prodotti alimentari. Le zone auliche dove si concentra il passaggio e le aree dei mercati sono quelle potenzialmente più a rischio per ricostruire la filiera della contraffazione e individuare il crimine organizzato che eventualmente si nasconde dietro la vendita del falso. La Polizia Municipale ha istituito una task force formata da un centinaio di uomini che entrerà in azione nei prossimi giorni. Prima, ma immediatamente, insomma, prima dell'operatività li prepareremo sia da un punto di vista giuridico sia dal punto di vista della riconoscibilità dei marchi e dei design contraffatti. e credo che l'impegno più interessante e più grosso sarà quello relativo a ricostruire all'indietro la filiera per cercare di arrivare dalla strada a chi produce, a chi importa, a chi mette in commercio tutti questi prodotti contraffatti che procurano tutti quei guai, compreso l'illegalità, compreso far perdere i posti di lavoro. Il progetto è frutto di un cofinanziamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e prevede l'ingresso di Torino nella Rete Nazionale Anticontraffazione del Lanci realizzata in collaborazione con la Polizia Municipale di Moncalieri Venaria l'Agenzia delle Dugane dei Monopoli e le Associazioni dei Commercianti l'iniziativa chiede la collaborazione di tutti i cittadini che sono invitati a segnalare eventuali casi al numero 011 44 26495.